Ciao ragazzi, sono Andrea di Solo Horror e vi do finalmente il benvenuto nel terzo episodio di Italia nel terrore. Vi chiedo subito scusa per il continuo cambio di location, ma sono stato praticamente obbligato a spostarmi per questo video, quindi spero che non vi dia troppo fastidio e vi giuro che cercherò di essere più stabile. Ma comunque, dato che il Natale è alle porte, oggi ho deciso di raccontarvi non uno, ma ben due casi ambientati in Lombardia, ed entrambi avvenuti nel periodo natalizio. Si tratterà di casi irrisolti, perciò vi dico subito che oggi ci concentreremo di più sulle vittime, dato anche che i carnifici probabilmente sono ancora liberi e indisturbati da qualche parte. Prima di cominciare, devo ricordare che questi video sono realizzati esclusivamente a scopo informativo e documentaristico. Il loro obiettivo non è mai quello di scioccare, ma di informare, intrattenere e rendere più consapevoli gli spettatori. Quindi, senza ulteriori premesse da fare, direi di cominciare subito. Ci troviamo a Milano, nel 1996, e manca davvero poco alle festività natalizie. La pioggia è incessante in quella sera del 21 dicembre, e un certo Claudio del Forno, del quale non ho trovato neanche mezza foto, sembra quasi che lo faccio apposta a cercare casi senza foto, ma vi giuro no. Comunque, un certo Claudio del Forno, un procuratore legale che allora aveva 35 anni, si prepara ad uscire di casa vestito nel migliore dei modi. Indossando l'abito con giacca e cravatta, dice a suo padre Luigi che quella sera sarebbe andato in discoteca, se solo un amico lo avesse accompagnato. Ma questo amico, purtroppo, non fa nemmeno in tempo a cercarlo. Alle 21 e 30, davanti al civico 12 di piazzale Accursio, un proiettile esploso a distanza ravvicinata lo colpisce, ponendo un'inaspettata fine alla sua vita. Nelle vicinanze non è presente nessuna videocamera di sorveglianza e neanche un testimone. Nonostante la forte pioggia, più in là nella piazza c'è un gruppo di sei giovani amici con l'abitudine di ritrovarsi sotto la tettoia di una giostra per decidere cosa fare durante la serata. Una volta sentito il colpo, però, pensano che sia semplicemente un petardo, perciò non si preoccupano minimamente. Fino a quando una di loro, una certa Deborah, decide di andare verso il rumore e si ritrova davanti un uomo disteso in terra con addosso un impermeabile ammacchiato di sangue. Si tratta proprio di Claudio, lasciato lì da solo mentre esala l'ultimo respiro. Gli altri ragazzi incuriositi la raggiungono, accompagnati anche da un passante con il suo cane che non sarà mai identificato. Insomma, nessun testimone e nessuna prova. L'unico indizio utile in quel momento è il proiettile che ha colpito Claudio, un indizio fondamentale e anche piuttosto curioso. Quel proiettile è stato sparato dalla famosissima pistola di Dylan Dog, una Bodeo 1889-44 Magnum. Ma questo ovviamente non è abbastanza per determinare chi sia il colpevole. Però, uno dei ragazzi che ha accorso lì dopo lo sparo, racconta agli investigatori di aver visto una Y-10 di colore blu metallizzato. A bordo era presente un ragazzo sui 25 anni, con un cappellino di lana e i capelli lunghi fino alle spalle. Inoltre, in un ristorante lì vicino, il signor Riccardo, seduto con la moglie, racconta di aver visto una Golf a fari spenti, che ad un tratto sbanda, va a sbattere contro una Mercedes parcheggiata, per poi fare retromarcia e ripartire. Entrambe queste testimonianze non portano a nulla. A quel punto sarebbe potuto essere chiunque il colpevole. Nonostante questo, l'unico indio non passa inosservato, e gli investigatori iniziano a fare luce sul passato di Claudio. Egli è un ragazzo piuttosto difficile, laureato ma mai diventato avvocato, e si porta dietro problemi da quando, all'età di soli 10 anni, viene investito da un'auto, sbatte la testa e finisce in ospedale. Ne esce fisicamente a posto, ma psicologicamente inizia a presentare dei disturbi psichici, paranoia e manie di persecuzione. Successivamente, quindi, la sua vita gli riserva non pochi problemi e varie crisi che culminano con un trattamento sanitario obbligatorio all'inizio del 95. Oltre a questo, viene anche scoperto che negli ultimi tempi era solito discutere con chiunque, anche con i passanti, per i motivi più futili. Ma tutto questo, sebbene potesse dare fastidio a qualcuno, di sicuro non giustifica un video. Le indagini quindi proseguono, analizzando alibi e possibili muoventi dei conoscenti, parenti e amici del ragazzo. Da questo viene fuori che era solito importunare le prostitute di piazzale a Cursio, ma ancora una volta non si riesce a trovare un collegamento tra questo e un possibile assino. Quindi, gli investigatori decidono di concentrarsi sull'arma del ditto. Il proiettile, come abbiamo già detto, è stato sparato da una Glisenti Bodeo, prodotta tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. Un'arma quasi leggendaria, che desta non pochi sospetti durante le indagini. Indagini che riescono a rintracciare 17 modelli di quest'arma, che vengono tutti sequestrati. Nessuno di questi però ha incise le striature che marchiano la pallottola mortale, che è stata evidentemente sparata da una diciottesima revolver mai ritrovata, così come non è mai stato ritrovato l'assassino. Una storia decisamente affascinante, che a distanza di più di vent'anni riesce ancora a destare scalpore e interesse. Nessuno ad oggi conosce un movente o le dinamiche in cui si è svolto il crimine, e la cosa che farà brividire ancora oggi è che, verosimilmente, il carcere è libero e indisturbato da qualche parte nel nostro paese. Ma adesso andiamo ancora un po' più indietro nel passato. Più precisamente nel dicembre del 1990, quando un'assurda scomparsa ha sconvolto la Lombardia. La sera del 7 dicembre di quell'anno, un ragazzo di nome Gianluca Bertoni, saluta i suoi genitori dicendo, ci vediamo più tardi. Gianluca è un universitario di 22 anni, e quella sera esce in macchina per raggiungere Barbara, la sua fidanzata, che abita a poche centinaia di metri da casa sua. Le parole dette ai suoi genitori, però, furono l'ultima cosa che sentirono provenire dalla sua bocca. Gianluca non torna a casa, e in realtà non fa nemmeno in tempo a raggiungere casa di Barbara. Sembra semplicemente svanito nel nulla, e per giorni il padre Giancarlo e la madre Laura vivono aggrappati a quelle ultime parole pronunciate dal loro unico figlio. Giancarlo viene descritto come un ragazzo tranquillo, uno studente modello al quarto anno della facoltà di veterinaria, ma a Somma Lombardo nessuno ha più sue notizie. Inizialmente si pensa ad un sequestro a scopo di estorsione, ma la sua famiglia non è ricca. È riuscita a vivere serenamente solo dopo anni di sacrifici. Suo padre ha iniziato facendo il contadino, e solo dopo tanto duro lavoro è riuscito a trovare un posto come funzionario della Olivetti. Ma nonostante questo, i soldi in casa non sono molti. La prima ipotesi viene presto scartata, quando qualche giorno dopo, a cadrezzate, quattro cacciatori trovano ciò che rimane dell'auto del giovane, completamente bruciata e sepolta dalla neve. Ma di Gianluca ancora nessuna traccia. Si arriva poi ad una svolta nel gennaio dell'anno seguente, quando Carlo Marcon, il custode di un residence, vede riaffiorare un corpo dalle acque del Verbano. Si tratta proprio di Gianluca. Viene quindi eseguita un'autopsia, che rivela che la morte è stata provocata da un colpo alla testa sferrato da un oggetto pesante, e che il decesso risale a qualche ora dopo la scomparsa. Le modalità del delitto fanno subito pensare alle organizzazioni criminali, per cui si iniziano a formulare diverse ipotesi e a scavare nella vita del giovane universitario. Tutto questo, però, sembra non portare mai a nulla. Non ci sono testimoni, ma un passante racconta di aver visto Gianluca nella sua auto, insieme a due sconosciuti, proprio la sera della scomparsa. Ma per le indagini questa informazione non è abbastanza, e gli investigatori fanno sempre più fatica a ricostruire l'accaduto. Qualche mese dopo, però, finalmente, sembra che qualcosa inizi a cambiare. Una ragazza di 22 anni, di nome Sabrina Conti, si fa avanti e racconta alla polizia di sapere chi ha commesso il delitto. Afferma che è tutto legato a vecchi rancori per questioni romantiche che avrebbero portato a una lite finita nel sangue. Accusa due fratelli conoscenti della vittima, ed essendo questa l'unica reale prova che avevano gli investigatori, decidono di arrestarli per ulteriori accertamenti. Ma molto presto viene fuori che la testimone si è inventata tutto. L'ha fatto per vendicarsi dall'ex fidanzato, uno dei due fratelli, che l'aveva lasciata dopo una relazione di tre anni. Un depistaggio che ha portato di nuovo le indagini al punto di partenza. E per anni questo caso è sprofondato nel silenzio. Un silenzio assordante per i genitori di Gianluca. Passano gli anni e nel 2009 sembra che il caso arrivi ad una svolta. Analizzando tutti i reperti a disposizione, e grazie alle nuove tecnologie, vengono rilevate nuove impronte e tracce di DNA. Queste consentono di identificare due nomi che finiscono subito nel registro degli indagati. La triste storia viene anche trattata nel programma televisivo Chi l'ha visto, e i genitori del giovane sembrano di nuovo trovare una piccola speranza. Da quel momento però torna il silenzio, che continua tutt'oggi. Non è trapelata nessuna nuova informazione sulle indagini, il che fa pensare all'archiviazione del caso. Tutto ciò che rimane sono le toccanti parole che il padre Gianluca ha rivolto durante un'intervista della RAI. Dice che se qualcuno sa qualcosa, deve farsi avanti. Qualsiasi piccolo particolare, anche insignificante, potrebbe far rinascere la speranza in lui. La speranza che si scopra chi è e perché ha commesso un atto del genere. Conclude facendo sapere che il più grande desiderio suo e di sua moglie è sapere la verità, prima di lasciare questo mondo e ricongiungersi con l'amato figlio. Sinceramente, entrambe le storie mi hanno fatto quasi arrabbiare, perché non è giusto che le famiglie di queste persone non sappiano la verità. Ovviamente non è colpa di nessuno se le indagini non hanno portato a nulla, ma trovo davvero triste il modo in cui sono finite. E in realtà, esistono davvero tantissimi casi simili in cui i ch***er non sono mai stati identificati. Perciò, pensare che un altissimo numero di criminali è libero e indisturbato nel territorio nazionale è semplicemente agghiacciante. So che queste storie sono state più corte del solito, ma, come immaginerete, i dettagli che si possono trovare sul web non sono troppi, ecco. Tuttavia, ho deciso di fare uno speciale di Natale sul sito Viola, dove vi racconterò in live le storie di altre persone che hanno agito durante il periodo natalizio. Spero davvero che la troviate un'idea interessante e che mi raggiungerete in tanti per discuterne insieme. Adesso però, ragazzi, vi ringrazio davvero tantissimo per essere arrivati fin qui. Mi scuso anche per il mal di gola, infatti nel video di oggi avrò una voce di merda, ma vabbè. Se il video vi è piaciuto, ricordate di iscrivervi, che fa sempre piacere. Detto tutto questo, vi saluto, vi auguro di passare un magnifico Natale e vi do appuntamento al prossimo episodio di Italia nel terrore. Grazie a tutti.